Più di 3.000 ragazzi e ragazze, 13 comuni organizzatori, 71 comuni coinvolti, 5 tipologie di giochi e attività, 13 appuntamenti, una manifestazione conclusiva. Riparte anche quest'anno, precisamente martedì 12 aprile, e si prolungherà fino al 21 maggio, la carovana provinciale delle Olimpiadi dell'amicizia. L'iniziativa, giunta alla quinta edizione, è promossa dalla provincia di Lecce e dal Comitato Provinciale Unicef, nell'ambito del progetto chiamato Nelle mani dei bambini il futuro dell'ambiente e del mondo. Il progetto promuove i diritti, ma anche la responsabilizzazione dei bambini, attraverso il coinvolgimento dei consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi, che si fanno portavoce dei bisogni e dei diritti della popolazione giovanile salentina, che operano sul territorio, sostenuti dalle amministrazioni comunali e dalle scuole. Le Olimpiadi dell'amicizia rappresentano una delle numerose iniziative previste nel corso dell'anno e offrono ai giovani del Salento un'occasione per divertirsi, ma anche per sviluppare relazioni d'amicizia e per esprimere, attraverso il gioco, lo sport e le arti espressive, concetti e sentimenti significativi. Le attività che vedranno impegnati migliaia di ragazzi e ragazze sono cinque. Sport, scrittura creativa, grafica creativa, espressione musicale e giochi. In ogni comune prenderà vita una specifica attività. Quest'anno sono 13 i comuni, le scuole e i consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze che si sono impegnati a organizzare le Olimpiadi sul proprio territorio e che hanno esteso l'invito a partecipare anche agli altri centri della provincia. Il primo appuntamento sarà il 12 aprile a Trepuzzi nella Villa Comunale. La manifestazione conclusiva delle Olimpiadi è prevista per sabato 21 maggio a Muroleccese. In tale occasione i 13 comuni organizzatori si incontreranno per scambiarsi le esperienze vissute e per ricevere il riconoscimento per l'impegnativo lavoro svolto.